E sempre in provincia è stato inaugurato il vecchio nuovo ponte tibetano dei salti del diavolo. Vediamo le immagini. Inaugurato ufficialmente il ponte tibetano dei salti del diavolo, infrastruttura che collega il territorio di Terenzo con Berceto e il confine di Calestano. Un bel punto di ripartenza rispetto al lavoro di valorizzazione che in questo territorio si può e si deve fare nel cuore di un'area Mab che da non molto tempo ha ricompreso anche il comune di Terenzo, quello di Berceto, di Calestano e che quindi segna un punto d'eccellenza che ha un grande potenziale per le comunità e per chi potrà venire a scoprire questi luoghi. I lavori sono durati oltre un anno e sono stati finanziati dalla regione Emilia Romagna per 215 mila euro, dalla provincia di Parma per 20 mila euro e dal consorzio di bonifica parmense che si è occupato anche della redazione del progetto e della direzione dei lavori per ulteriori 48 mila euro. Un intervento che non va solo a dare risposte ai cambiamenti climatici che vediamo tuttora in corso ma che va anche a valorizzare quello che è un territorio dell'Appennino montano che assolutamente ha bisogno di essere tutelato e vedere interventi come questo come in un'ottica di sviluppo turistico territoriale. All'origine del nome della formazione rocciosa vi è la leggenda che narra di un monaco eremita il quale riteratosi in preghiera nella zona diviene oggetto di tentazioni da parte del diavolo che lo alletta con promesse di cibo, ricchezze e una giovane fanciulla. Il monaco però non solo resiste ma scaccia il maligno che nella fuga lascia impresse le proprie orme sul terreno dando così vita alla formazione sedimentaria oggi ancora ben visibile. Il fatto che la provincia sia riuscita nonostante le difficoltà che hanno gli enti provinciali a dare un sostegno economico e adesso da adesso in poi a ragionare sulla gestione di questo patrimonio credo sia il segno che vogliamo essere vicini a questi comuni, alle comunità che qua ci vivono che sono piccole, sono fragili ma rappresentano quella Parma che racconta dell'Italia nel mondo.